Noi torniamo con questa iniziativa a voler parlare appunto dell'inquinamento più in generale e dell'inquinamento atmosferico in particolare, perché ogni anno Legambiente raccoglie tutti i dati dalle centraline delle varie città, quest'anno abbiamo toccato 12 centri importanti del nostro paese e abbiamo valutato i dati di 238 centraline. Che cosa viene fuori? Purtroppo viene fuori che nonostante vi sia stato negli anni un piccolo miglioramento per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, siamo ancora troppo lontani da quelle che sono invece state fissate le norme che fissano appunto i limiti di questo inquinamento. In particolare abbiamo visto che in molte città del nord si supera di gran lunga il limite appunto legislativo ma anche nelle città del centro e del sud purtroppo c'è questa situazione, compresa appunto la nostra Pesaro che per esempio per il 2021 ha sforato per ben 19 giorni il limite massimo consentito per le polveri sottili che sono quelle più diciamo quelle più nocive per la salute, nonostante la centralina Pesaro sia posizionata in un parco che è il parco Scalpellini. Quindi questo ci impone un ragionamento sull'inquinamento atmosferico molto importante e soprattutto ci impone a tutti, compreso ovviamente i cittadini ma soprattutto gli amministratori comunali, regionali e il governo centrale a fare scelte veloci, determinate in direzione proprio di una modifica proprio di questo ambiente soprattutto in direzione di quello che inquina di più. Lo sappiamo benissimo, quello che inquina di più oggi sono i carburanti quindi le energie fossili. Noi dobbiamo passare dal fossile alle energie pulite, cioè alle energie rinnovabili. Purtroppo se ne è parlato soltanto in questo ultimo periodo delle energie rinnovabili con un certo vigore perché sono arrivate delle bollette salatissime. A livello locale noi appunto abbiamo indetto questo webinar per innanzitutto con l'ARPAM regionale parteciperà il dottor Giorgio Catenacci che ci esporrà tutti i dati della regione Marche relativamente all'inquinamento ambientale. Poi ci sarà la Donatella Fava, la dottoressa che è un'esperta appunto in medicina ambientale che ci spiegherà quali sono gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini e a questo proposito ci sarà Gloria Nicolini che ci potrà, siccome è un'esperta anche lei per quanto riguarda l'ambiente, cioè gli ambienti chiusi, ci potrà suggerire delle tecniche per ridurre questo inquinamento anche all'interno delle abitazioni, degli uffici, delle scuole, cioè laddove noi praticamente operiamo tutti i giorni. Il presidente regionale di Lega Ambiente, il dottor Marco Ciarulli, ci farà invece una panoramica più generale su quelle che sono le proposte che Lega Ambiente ha lanciato sia nei confronti del governo che nei confronti della regione Marche e dei comuni della nostra regione per modificare e migliorare questa situazione.